Allora amici, per chi ha seguito le vicende del bidonofono a tre corde, adesso l'abbiamo messo a quattro corde, vedi? Quattro corde, perfetto. È praticamente un ukulele, vi faccio sentire questo bidone, versione ukulele, in un pezzo di zucchero. Ecco qui, diamante. Domenica. Domenica. Uh, yeah. Aspetterò che aprami il binai, più grande ti sembrerò e più più grande sarai. Nuove distanze li avvicineranno e dall'alto di un cielo diamante i miei occhi veneranno passare insieme soldati e espose domenica. Domenica 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 Il pidofono eccolo qui fatto con un barattolo di pomodori però adesso l'abbiamo messo a 4 corde alla prossima Faccio vedere una nuova versione del pitofono. Bye!